Ciao, sono Emi e benvenuti a una ricetta con Orietta. Oggi prepariamo questi mini cuoricini di polenta Berry Hot con salti in bocca della bassa. Prima di tutto facciamo la polenta, occhio a non far rimanere i grumi, quindi giriamo per bene e poi la lasciamo raffreddare su una carta a forno. Ora cuociamo i nostri prodotti GP dell'Emilia Romagna seguendo i tempi di cottura. Nel mentre riprendiamo la nostra polenta che si sarà raffreddata, prendiamo le formine a forma di cuore, facciamo dei cuoricini e poi li mettiamo a grigliare da entrambi i lati. E ora abbiamo tutto, zampone Modena IGP, cotechino Modena IGP, salama da sugo IGP e pancetta piacentina DOP. E adesso decoriamo! Ah, manca una cosa, latte grana padano DOP. E facciamo la fonduta, eccola qua a perfezionare il piatto e direi che buon appetito! Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Grazie.